Noi siamo veramente molto onorati e soddisfatti di poter partecipare a questo evento. La nostra birra vive nel e nel territorio in cui operiamo e quindi questa è una delle tante iniziative che abbiamo deciso di sostenere e di sponsorizzare come birra antoniana. Ci sembra un'iniziativa lodevole, a vantaggio di una realtà come il centro di Urno alla Betulla che risulta comunque molto importante per tutto il territorio dell'Alta Padovana e con l'occasione abbiamo deciso anche di portare in degustazione una delle nostre birre in referenza prima della partita, durante l'intervallo fra primo e secondo tempo e alla fine della partita così tutti i presenti potranno assaggiare anche la nostra birra oltre che naturalmente vedere la partita della Nazionale TV. Quindi vi invitiamo veramente ad essere tutti presenti e a passare presso il bar degli impianti sportivi così potete assaggiare la nostra birra antoniana.